Good morning roleplayers e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no anche giochi di ruolo. Siamo sempre in fase Game Chef, stiamo pensando solo a quello, tira più un pel di Game Chef? No non era più. Allora sì stiamo sempre pensando al Game Chef in mezzo agli obblighi quotidiani nei momenti di pausa, in mezzo alle uscite con gli amici, in mezzo ai festeggiamenti per le vittorie di Sofia, in mezzo a qualsiasi attimo, pausa caffè, pausa pranzo, pausa questo, pausa quello, è sempre buono per gli amici. La macina delle idee continua però ovviamente si arriva ad un punto in cui ci si incalda, ovviamente. Per me è abbastanza naturale arrivare ad un punto in cui ci si blocca e praticamente non è più possibile continuare se non cambiando completamente l'idea sulla quale ci si era, sulla quale ci si è bloccati, quindi scartarla e trovarne una nuova. Oppure trovare quella chiave di volta, quello svincolo, quella grande idea che ti fa insomma andare in mente. Ma siccome non sono un genio, io almeno le grandi idee insomma faccio molta fatica. Ed è per questo che, come detto la puntata precedente ieri, mi sento che lavorando in coppia le cose stanno andando avanti molto bene. Parlando di grandi idee, in questo preciso istante c'è una cosa, un'idea che gira nella testa da ieri, una cosa che secondo me al Game Chef può essere molto apprezzata. Può essere, come dire, potrebbe essere quella cosa che se usata sapientemente può anche assicurarci una buona posizione nella classifica dei giochi. Però è difficile da incastrare col tutto il resto, no? Avete, non lo so, un cavallo e un processore a multicore. E sapete che in qualche modo potete metterli assieme, però sono due cose completamente diverse. E quindi manca quell'ostacco, quella tecnologia di intermezzo per fare un cavallo cyberpunk, ok? Manca. Effettivamente è difficile riuscire ad accostare queste cose. È difficile. Nella mia testa più o meno la metafora funziona. Probabilmente nella vostra testa no e vi capisco benissimo. Nella tua testa avevo fatto un patatrack e sono solo le nove di mattina. Scusami se ti ho rovinato il pensiero logico creativo alle nove di mattina. Dì, già, è martedì alla fine. C'è tutto il tempo per riprendersi, no? Ecco, ti è mai successa una cosa così? Perché è strano, no? Di solito è, fai un qualcosa, tipo, nell'ambito del Game Chef, scrivi un gioco e dici, ok, c'è tutto, è fatto. Però manca quella scintilla, no? Quell'elemento di, ah, questo è un gioco interessante, ha una meccanica fichissima, oppure ha una roba innovativa, oppure, mamma mia, l'uso di quella meccanica lì che di solito viene strutturata in questo modo, invece è destrutturata e ristrutturata in un'altra maniera che è molto più intelligente, molto, cioè, ok. Invece qua è il viceversa, no? E quando pensi di aver trovato la miniera d'oro, però l'oro, l'oro non, l'oro non si associa con, con, con i materiali più impuri, no? L'oro è mescolato al ferro, insomma, non è una grande idea. E forse perché io personalmente ho una visione un po' diminutiva di quello che faccio. E allora mi sembra di aver trovato con Sofia una soluzione grandiosa e il resto sia invece una cosa banale. In realtà il resto del gioco non è così, per quello che abbiamo creato finora, non è così banale, anzi, interessante. Boh, è difficile da spiegare, molto difficile. Però chiedo a te, hai mai avuto questa situazione così, no? Di avere la grande idea che però deve incastrarsi con tutto il resto. Invece di solito, invece che il solito ho delle idee, meh, e devo trovare la grande idea. Fammi sapere, io ce l'ho fatta, sono sopravvissuto a parcheggio comodo, arrivare presto al lavoro ogni tanto giova, anche sempre in realtà e noi ci lasciamo qui per oggi. Questa sera si gioca a Cuori di Mostro e come sempre, come tutti i giorni, rock and roleplay!